Un piano straordinario di tutela e gestione delle risorse idriche, l'azione è volta alla realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del servizio idrico integrato che comprende acquedotti, fognature e depuratori. Noi riteniamo che a partire da oggi, nell'arco di 80-90 giorni, siamo nella condizione di bandire le gare d'appalto. La gare d'appalto se segue uno strumento impiega 30 giorni per scegliere il contraente, se segue un altro strumento giuridico per la scelta del contraente che si aggiudica ai lavori richiederà 90 giorni di tempo. 100 milioni di euro da suddividere per le quattro province, ognuna analizzata nei suoi minus e nelle sue criticità. L'operazione affida la materiale realizzazione degli interventi ai soggetti gestori, società pubbliche e comuni sotto i mille abitanti. Fino a quando siamo diventati governo della regione Abruzzo, dai primi giorni ci siamo resi conto di come fosse impellente intervenire sui sistemi depurativi ai fini della qualità delle acque in generale, anche in relazione alla stagione turistica in fase di conclusione, che purtroppo ha visto dei risultati non eccellenti, Vedasi, Goletta Verde e tutto ciò che è stato pubblicato proprio il 14 agosto quando eravamo in Consiglio regionale. Una sola limitazione spiega il Presidente della regione, questa volta alle spese tecniche verrà destinato solo il 2% dell'intero patrimonio. Il limite del 2% fa riferimento alle spese di progettazione e di direzione dei lavori. La somma destinata al completamento e all'efficientamento del sistema depurativo abruzzese è pari a 170 milioni di euro, 101 milioni di derivazione regionalista e comunitaria, 69 milioni di euro di derivazione dal decreto sblocca Italia. Insieme fanno 170 milioni di euro, la più grande operazione finanziante messa in campo da Regione Abruzzo per i depuratori dei comuni abruzzesi.